Tommaso, Moon Village, Mars Village, la Luna sarà forse necessariamente la prima tappa su cui dovermo andare a costruire. Quali sono i primi progetti? Come si può fare a costruire sulla Luna? Allora, innanzitutto sì, sono d'accordo. Secondo me la Luna, come anticipava anche Danilo, può essere vista come un dimostratore tecnologico per missioni più complesse, come ad esempio Marte. Come la stazione orbitante è stata un dimostratore tecnologico per dimostrare che l'uomo può vivere nello spazio, può lavorare nello spazio. Adesso vogliamo dimostrare che l'uomo può vivere e lavorare su un pianeta. Il pianeta ovvio e più vicino è la Luna. John Fitzgerald Kennedy diceva perché andare sulla Luna e lui rispondeva dicendo perché sta lì. Quindi anticipando l'esplorazione. Noi invece oggi sappiamo che possiamo andare sulla Luna anche per estrarne delle risorse. Sappiamo che c'è titanio. Il titanio è un metallo estremamente prezioso perché può essere utilizzato per costruire oggetti sulla Luna, quindi ad esempio la regolite. Intanto ci sono già cimenti, c'è titanio presente, ma in più la regolite... Quindi si costruirebbe sfruttando le materiali lunari? Non c'è un bro di dubbio. Allora, per quanto mi riguarda, non c'è altro modo per andare su un altro pianeta se non quello di utilizzare le risorse che sono già su quel pianeta. E ad esempio per costruire una base lunare, quello che possiamo fare, noi lo abbiamo già fatto, all'Agenzia Spaziale Europea noi abbiamo già stampato, utilizzando un simulante della regolite lunare, una base lunare, o meglio una sezione di base lunare di una tonnellata e mezzo, utilizzando una stampante 3D. Quindi invece di mandare... Cioè voi sulla Terra avete stampato un pezzo di stazione lunare? Sì, sì. Ed è presente... Mi hanno sgridato perché ho detto fichissimo, però lo ripeto perché... Sono d'accordo. E mi chiedo scusa ai telespettatori che mi hanno ripreso per questo aggettivo, però è veramente incredibile. Tra l'altro il fascino di tutto questo è che è estremamente elegante da un punto di vista ingegneristico, vale a dire, innanzitutto io non devo mandare niente sulla Luna, ma tutti i materiali li trovo già sulla Luna, primo. Secondo, utilizzo il Sole come fonte di energia, quindi non devo mandare nessuna fonte di energia, ma semplicemente una lente di ingrandimento e il Sole, quindi la lente di ingrandimento focalizzando i raggi solari in un punto riscalda, cuoce, strato per strato la regolite lunare e costruisce questo igloo completamente automaticamente. Già fatto, questo l'abbiamo già fatto, ripeto. Ma in più, e questa è l'eleganza, abbiamo parlato di radiazioni che sulla Luna sono un problema. Il secondo problema della Luna e anche dei viaggi su Marte sono i micrometeoriti, cioè non essendoci atmosfera, la Luna è continuamente bombardata da micrometeoriti. Quindi, questo igloo, che è cemento armato, attorno alla base lunare, automaticamente fornirebbe agli astronauti che stanno all'interno una protezione naturale alle due minacce maggiori che ci sono sulla Luna, e cioè le radiazioni e i micrometeoriti, in modo completamente sostenibile e automatico. Ora, naturalmente la base lunare, cioè costruire la base lunare, è una cosa e bisogna farla, e, mio modo di vedere, ma penso che ormai sia assunto, la stampante 3D sarà la soluzione, comunque utilizzare risorse in situ. Ma gli astronauti avranno bisogno di molto di più rispetto alla base, avranno bisogno di utensili, strumenti, eccetera. Tutti questi utensili, strumenti, una parte verrà lanciata, un'altra parte, e noi stiamo studiando questo, stiamo già realizzando questo, verrà costruita in situ, utilizzando ancora A, la regolite, B, il titanio che estrarremo dalla regolite e dal sottosuolo, C, qual è la fonte ovvia di metallo e di plastica sulla Luna? È quella che ci abbiamo portato noi, e cioè, ad esempio, il lander. Il lander, che è l'elemento che ci ha fatto atterrare sulla Luna, una volta atterrato non servirà più a niente, non ritornerà sulla Terra, ma rimarrà sulla Luna come una sorta di spazzatura. Quindi, quello che noi vogliamo fare, e già lo stiamo facendo, vogliamo estrarre tutte le plastiche e tutti i metalli dal lander e ristamparli, ricostruirli con stampanti 3D, in forme, in quel momento, utili per la missione, quindi per quella fase di missione, in una sorta di riciclo continuo, ecco, per tornare all'impatto ecologico il più basso possibile. Ma c'è anche Helio 3, che è un elemento per produrre energia elettrica in modo nucleare, ma non radioattivo, quindi con la stessa performance del nucleare, ma senza lo svantaggio della radioattività. Quindi, questo addirittura ce n'è in quantità tale che potrebbe rendere economico addirittura trasportarlo indietro sulla Terra e utilizzarlo sulla Terra. In più c'è acqua. Avendo acqua vuol dire che si può creare ossigeno, ma si possono anche creare i combustibili per i razzi per magari partire dalla Luna per andare su Marte, quindi avere una missione di spostamento più agevole. In più si può fare scienza di altissima qualità, perché mettendosi dalla parte al buio della Luna, si è al buio da tutto, quindi si possono utilizzare telescopi, radiotelescopi, ad altissima risoluzione, cosa che sulla Terra non possiamo fare. Quindi abbiamo colonizzato la Luna per un certo motivo, per questi svariati motivi. Adesso vediamo cosa possiamo fare su Marte.